Vuoi essere il killer Yodobon? Gli facciamo fare il killer? Leo, possiamo fargli fare il killer Yodobon? Dai, così, è contento? Sì, è sull'isola? Vado io? Oh, finalmente. Dai, raga, che nabbo. Never, però qualcuno mi deve scortare. Io sono proprio vicino all'isola. Scusami, Fred, no, 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 aspetta, annaggia, aspetta, dai, devo fare una cosa. Oh, ogni persona che c'è qualche Jason selvatico. No, aspetta, selvatico è solo FedEx. Qualcuno mi scorta? Vado da solo? Vado da solo. Sono vicino, sono dove c'è il falò, a Steel Water Camp. Sei quello vicino al ponte? Ci troviamo sull'isola. Allora, ma che dobbiamo fare voi? Sì, ma qualcuno deve interpretare Tommy. No, 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 allora, fermi tutti. Fermi tutti. Chi è quello che è a Blair's Cove? Chi è a Blair's Cove deve andare a Higgins Camp. Ci sono altri due. Non lo so, forse io sono... Eh, nessuno ha chiamato Tommy Jervis, però. Eh. Dove devo andare, Fino? A Higgins Camp, sopra la casa gialla. Ma che volete fare? Volete... Ucciderlo proprio? È qua, ragazzi. Vediamo ucciderlo. Un aiuto, ragazzi, se no muoio. A Steel Water Camp, non c'è nessuno. Dove siete tutti? Io ci sono. Siamo tutti a Higgins' Heaven. Niente, un pugnalino manco a trovarlo. Eh, vabbè, Asher, non so che cazzo di... Ah, che, che! Provate a chiamare anche Tommy Jervis, se riuscite. Eh, ma è difficile, però. C'è un problema, abbiamo fuori, eh, passi. Stai male, Marco. Basta, hai rotti i coglioni! Ragazzi, mi date una mano? Dove cazzo sei? È qua! Dove? Dove c'è il falò? Muoio. Muoio. Perché scappi? Dove si... Dove si... Di un po'. Di un po'. non riesco io provo ad andare sull'isola da solo perché qua sennò muoio cioè a forza non aveva nessuno ha chiamato tommy jervis comunque sono still water cam dove c'è il falò vicino al lago dove c'è l'isola beh vado da solo e non portatemi jason però ti posso accompagnare io vedo qualcuno chiami tommy jervis io sono sull'isola sennò non riesco più chiamate tommy chiamate tommy jervis saranno sopra il falò che palle però oh io vi sto dicendo di venire a sti water cam siete dall'altra parte della mappa io ci sto cioè ma dovevi venire qua sti water cam eh io ho il maglione però buona fortuna a me io sto chiamando tommy jervis raga ma già qualcuno c'è stato in questa casa perché non l'ha chiamato tommy jervis dov'è che è state assieme a colpirlo state assieme a colpirlo io mi nascondo in un armadio ce l'ha fatta colpirlo un po' di volta togliogli la maschera fedes answer dobbiamo star vicini oh never roberto la tornerete con con mi jervis no ma non credo che sia io che c'è quassù io mi sa e tu questo qua che sale si andiamo agli altri ma stiamo c'è un macete dentro questo qua c'è un macete in giaria c'è un maco jervino never vieni con me io ho un'idea prendiamo tutte le prendiamo tutte le mazze e tutti i maceti possibili li mettiamo qua oh qui c'è la maceta never e mazze devono cercare le mazze da baseball dovete venire a evergreen camp la io l'ho messa qua guarda la per terra siamo tutti qua no ancora no beh quelli che contano che stanno facendo sta cosa perché robert è morto no si esatto purtroppo non trovo manco una maceta qui c'è una bella mazza cerchiamo in queste casette neanche una mazza c'è guà detto così poi l'ho messa per terra io si l'ho messa alla tutela lì prendila mettila nella casa di prima eh ma tienile lì le teniamo lì per perché si rompono dopo eh ma ecco ero sta per morire ma prendiamo anche dei cosi per colpirlo eh tipo dei come si chiama le cagne lì eh noi le chiamamo la cagna tipo questa che foto che foto dove era la casa? era questa era questa giusto? no sì sì qualcosa per colpirlo no l'accetta teniamoci tipo le mazze l'accette per la fine allora facciamo così qua qua metto le armi utili ok queste le mettiamo qua perché Ercole l'ho lasciato? mi è morto ma destra e destra sto mi entra qua in fondo c'è un pugnalino ora lo prendo io ah 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 ha più bisogno io si mi prende a mettere il collo ragazzi bene raga qualcuno vuole una cura la butto qua chi la tiene qui chi è che c'ha il perk per averle doppie? io io allora tiene la tu Leo eh ma qual è il tasto per curare gli altri? qual è il tasto per curare gli altri? la freccia giù ok no no freccia per il tasto per curare gli altri non per buttare la terra no devi stare vicino a lui e schiacciare il quadrato si ma è coglione forte ma c'è qualcuno che deve ancora morire The Answer forse si è morto si raga quindi le armi importanti sono quelle in fondo giusto ragazzi mi raccomando se prende me se prende me è un coltellino quindi state sicuri ma se prende Never è merda eh facciamo di far casino oh facciamo facciamo un recap facciamo un recap no e poi un'altra cosa è meglio farlo in tre questa cosa Never è meglio farla in tre uno prende la matta a baseball io fermo e a e Never con macete eh gliela togliamo adesso ecco mezzo mezzo e quindi una volta io sono fatto sbloccare la rage è ritardato no l'ace proprio l'ace devi usare Jason come and get me it's me you all remember aspetta il sparo no in quattro in tre si si lo so come in pace l'animazione ciao ciao si è si è incantato no 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 vieni sto bloccato alla porta ammazzaci ammazzaci mhm ammazzaci c'è che? ecco ha ucciso quella l'avete ammazzato leo 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 lo spray leo 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 prenditi la ma- leo prenditi la mazza Prenditi la mazza Ok, randi, raga No, ti ho preso il bicchiato Aspetta Ah, 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 ah Eh, parecchio, parecchio, ci vuole Why would you fucking die? Certo, calma, calma, rispondati, calma, rispondati delle furie Oh, ti vuole pigliar Bravo Raga, ma sta maschera, ti becco davanti, te lo giuro Please, no, I want some more Guarda vero quanto è incassato E togliti Guarda nimmer, guarda nimmer, guarda nimmer, guarda nimmer, guarda nimmer, guarda n абсолютно Guarda nimmer, guarda nimmer, guarda nimmer Raga, ce la piglia con me ora nimmer, provaclati radio ıyorum sto andro am потому va 橋 my gives peak Oh god! No! Neve a rimottere! Mottene via! Mottene via! Non ho più Spike! Non giù lei! Bene, prendi tutto! La massa, la massa, la massa! Vai raga! No, le presse! Posso? Sì! 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 Cazzo sì! Cazzo sì! Madonna ragazzi! Troppo sotti! Raga dobbiamo andare in priorità a gioco! Sentiamo cosa dice! No, lo sento! Io lo sento sotto eh! Cosa dice? Madonna ragazzi! Troppo sotti! Eh? Eh? Best friend forever! Madonna mia! Andiamo a sentire Yodu! E si chi va! No, io questa la salvo! La voglia! Questa su YouTube! Su YouTube subito! Su YouTube subito! Su YouTube subito!